Andrea Capozucca, Andrea è docente di matematica e fisica presto d'istituto da Vinci di Civitanova Marche e esercita una intensa attività di divulgazione in collaborazione con varie università, Camerino naturalmente, ma anche Urbino, Bocconi e dal 17 è direttore scientifico del Festival della Scienza di Fermo, fermamente, e collabora anche con Mondadori Scuola, insomma è un esperto senza dubbio di divulgazione della matematica e oggi parla di qualcosa che mi incuriosisce particolarmente vista la mia vita passata di ex musicista, ovvero parla, il titolo del suo intervento è Vedere la musica, Ascoltare la matematica e personalmente sono tutto che è tutto ricchio. Lasciate la parola Andrea. Grazie Alessandro, ciao e un piacere di essere qui con voi. Provo a raccontarvi un po' questo titolo che ho scelto per questa chiacchierata, Vedere la musica, Ascoltare la matematica. Sono due percorsi di ricerca e di sperimentazione, uno più orientato verso la didattica, uno più orientato verso la comunicazione che sto portando avanti oramai da sei anni. Eccoci qua. Intanto vorrei dare, come posso dire, il giusto tributo anche all'altra persona che con me in questi anni ha lavorato a questa idea di mettere insieme il mondo della matematica e il mondo della musica. In questa foto ci vedete ritratti, è una foto d'archivio di qualche anno fa, con Marco Fermani che è oltre che un caro amico un eccezionale musicista, ma anche, come vedete lì nella didascalia, un fisico nel tempo libero, ci si conosce da praticamente quando facevamo il secondo superiore. L'incontro è avvenuto proprio su un palco ed era un palco di una festa d'istituto del liceo che abbiamo frequentato. In realtà poi le nostre strade sono state diverse a un certo punto, perché entrambi siamo arrivati a Camerino, io a studiare matematica, Marco a studiare fisica, ma poi quello che è successo è che Marco ha praticamente ripudiato, è la parola corretta, la fisica, ma ripudiato nel senso buono del termine, per dedicarsi alla musica, è diventato un musicista a tempo pieno. Il sottoscritto invece è diventato musicista nel tempo libero, quindi si continua a dilettare con la musica, ma poi ha intrapreso la strada del matematico, dell'insegnante in particolare. Questo perché? Perché questa idea nasce dalla nostra frequentazione, dal fatto che ci siamo sempre confrontati sia scientificamente che musicalmente su tanti temi e a un certo punto ci siamo rincontrati e continuando a ragionare come facevamo sempre su questi temi sono nate delle idee, delle idee intorno al 2016 alle quali abbiamo dato, ha provato a dare un po' di corpo e abbiamo cercato di dare un seguito. La prima di queste idee, partiamo dal discorso vedere la musica. Qui vedete una foto di un convegno che si è svolto nel 2019 all'Inns, in Austria, dove abbiamo presentato i risultati di una nostra ricerca relativa a un approccio interdisciplinare a matematica e musica all'interno di Bridges Conference, che è una conferenza internazionale di arte e matematica. Quella era la stanza dove eravamo, vedete che c'era una perfetta suddivisione in due della stanza, una parte cosiddetta giocosa e una parte cosiddetta teorica. È stato interessantissimo perché abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con colleghi più o meno da tutto il mondo che hanno partecipato a questo workshop e vorrei provare, raccontandovi quello che è stato il workshop, a farvi capire un po' quella che è l'idea sulla quale stiamo lavorando. In particolare già dall'abstract del nostro paper, del nostro articolo, si intravede un po' quello che era lo scopo e in particolare vedete il goal, diciamo, il goal degli obiettivi del nostro workshop era quello di incoraggiare gli insegnanti di matematica a ispirare gli studenti rendendo la matematica, diciamo, udibile oltre che visibile, ma anche allo stesso tempo gli insegnanti di musica a utilizzare i metodi geometrici per provare a migliorare l'approccio alla teoria musicale. Cercando però ovviamente di mettere tutto in un'atmosfera molto creativa, in un processo di scoperta, per formare appunto un ambiente salvo, sano e diciamo pronto alla sperimentazione e al gioco. Questo, diciamo, abbiamo visto nel corso del tempo, dal 2019 ad oggi, che può in qualche modo positivamente impattare su quelle che sono le attitudini delle persone nella matematica, nella musica e nell'apprendimento. In particolare abbiamo visto che nella teoria musicale questo approccio può avere una significativa importanza in quanto è un modo diverso proprio di approcciare la musica, cioè di vederla e di vedere poi quello che è l'accordo e tutto ciò che è l'armonia e la teoria musicale. Provo a raccontarvi un po' quello che abbiamo fatto. Ecco, quindi la prima parte è perfettamente interattiva. Diciamo che l'idea che utilizziamo in questi, diciamo, workshop è quella di utilizzare un approccio informale, soprattutto all'inizio, e quindi abbiamo pensato che la prima cosa da fare era presentarsi. Ovviamente questo era un gioco che abbiamo utilizzato in realtà per cominciare a sperimentare, a far sperimentare i presenti, quelli che erano le assonanze e le dissonanze tra le note. Come funzionava questo gioco, piacere mi presento? Avevamo a disposizione, avete visto nella foto precedente, sulle sedie, potete vedere ci sono 12 tubi colorati, sono dei boomwalkers che si possono acquistare tranquillamente online o nei negozi di musica e sono tubi di plastica di diversa lunghezza e ogni tubo, se battuto correttamente sul palmo della mano o a qualsiasi parte del corpo addosso, emette praticamente la nota che lo rappresenta. Quindi era come se a quella riunione di 12 persone si sedessero 12 individui che in quella particolare situazione avevano come il loro nome, non il nome proprio, diciamo come nel mio caso Andrea, ma era il nome della nota, cioè la nota era il loro nome. Quindi una volta scelto il boomwalker, dovevano sperimentare un po' come suonarlo nel migliore dei modi, dopodiché ci si presentava, quindi ci si iniziava a muovere per la stanza e ogni volta che si incontrava qualcuno bisognava presentarsi. Come avveniva la presentazione? Praticamente non si parlava ma si batteva il boomwalker sulla spalla della persona che ci si trovava di fronte. Qual era il gioco? Il gioco era che mentre ci si conosceva, ascoltando le due note, i suoni che emettevano, bisognava cercare di prendere nota di quali incontri erano tra virgolette piacevoli, ovvero sia di quali note andavano più d'accordo rispetto ad altre. Questo perché? Perché in teoria musicale l'insieme di due note suonate insieme è quello che si chiama un bichorde. Non è ancora un accordo completo, ma è un suono un po' più pieno della nota che dà già una sensazione di piacere o di dispiacere, chiamiamolo così, all'orecchio e in qualche modo viene utilizzato anche all'interno della teoria musicale e dell'armonia musicale nella composizione. Fatto questo si passava alla prima traduzione da musica da suono a matematica, cioè questi incontri piacevoli che ognuno si era appuntato in un block notes che aveva con sé dovevano poi essere trasformati in segmenti piacevoli usando il cerchio cromatico e delle strisce di carte. Il cerchio cromatico è una tavoletta che noi avevamo creato, fatta più o meno come quella in figura, dove vedete sono disposte come le ore dell'orloge o le note, così nell'ordine in cui sono presenti nella scala. Ovviamente lì ci sono i diesis, ma per Alessandro che è un esperto musicale sa benissimo che bisognerà mettere anche i bemolle e poi li metteremo, ma l'idea è che vedete quel intervallo piacevole che è l'intervallo CE, cioè DO MI, viene utilizzato come primo segmento piacevole che si può costruire dalla conoscenza che si era fatta durante questo momento di presentazione. Una piccola precisazione magari per chi non è avvezzo con la notazione anglosassone, quelle lettere che vedete sono le lettere che rappresentano le sette note della scala musicale, C sta per DO e poi andando in senso orario V e RE E MI F FA G SOL A LA e B SI. A questo punto una volta che avevamo questo insieme di segmenti piacevoli, chiamiamolo così, che ognuno aveva costruito a partire dalla sua nota, ci si accorgeva che erano segmenti più o meno di tre misure, quattro misure, cioè misure nel senso che rappresentano come misura la distanza tra due note successive nel cerchio e quindi quello che avevamo sperimentato è che le distanze più piacevoli, chiamiamole così, i segmenti più piacevoli, erano quelli che distavano tre dalla nota di partenza, quattro, cinque e sei. Per cui siamo andati nel mondo matematico e nel mondo matematico abbiamo detto con questi segmenti dovevamo costruire dei triangoli e la prima domanda che ci siamo posti è quanti triangoli diversi possiamo costruire usando questi segmenti piacevoli, combinandoli opportunamente. Qui ovviamente potete anche provare voi mentalmente, mi dispiace che non siamo in presenza perché sarebbe stato bello farlo insieme, però ecco provate a immaginare quali triangoli e quanti triangoli diversi possiamo costruire usando dei segmenti lunghi tre, quattro, cinque e sei. Poi a questo punto la domanda successiva è che tipo di triangolo ottengo. Quindi una volta composti questi triangoli ci si accorge più o meno che la tipologia dei triangoli che si costruisce, che si possiamo costruire sono quelli che di solito siamo abituati a incontrare a scuola, quindi il triangolo scaleno, quello isoscele e quello equilatero. A questo punto arriva il passaggio fondamentale della seconda parte, cioè quello che ci fa ritornare un po' nell'ambito musicale, cioè quali di questi triangoli che siamo stati in grado di costruire sono perfettamente iscrivibili nel cerchio cromatico. Sulla destra vedete che ci sono due foto fatte il giorno del workshop con le tavolette di cui parlavo prima con il cerchio cromatico e vedete che sulle striscette di carta sono riportate le distanze e vedete sopra un triangolo equilatero e sotto un triangolo scaleno. Ovviamente tutti e due i triangoli erano stati costruiti dalla persona che in quel giorno aveva come nome C, cioè Do. Perché questa cosa è interessante? Perché la risposta a questa domanda, che potrebbe sembrare banale per certi aspetti, in realtà nasconde già una prima verità, se possiamo chiamarla così, di quella che è la teoria musicale, ovvero sia ci si accorge che di tutti i triangoli che noi siamo in grado di costruire con quei segmenti di lunghezza diversa, solo quattro sono perfettamente iscrivibili nel cerchio cromatico. Quali sono questi quattro triangoli? Li chiamiamo così, triangolo scaleno 1 che può essere rappresentato partendo dalla nota base, quindi dal nome della persona, come distanza 4, distanza 3, distanza 5 e vedete che la somma delle distanze è complessivamente da 12, quindi ci riporta esattamente, girando in senso anti-orario, nella nota iniziale. Un triangolo scaleno 2, chiamiamolo così, nel quale invertiamo le prime due lunghezze, quindi 3, 4, 5. Un triangolo isoscele che ha lati 3, 3, 6 e un triangolo equilatero di lato 4, 4, 4. Ovviamente quello di lato 3, 3, 3 era troppo piccolo, cioè cadeva all'interno del cerchio, quelli invece di lato 5 e 6 erano troppo grandi e quindi non erano perfettamente iscrivili. Ora, questo a che cosa ci porta? Ci porta praticamente alla definizione, a definire in maniera del tutto automatica il concetto di accordo. L'accordo musicale che in generale è definito come la combinazione di tre o più nuote suonate insieme. Se prendiamo l'accordo pulito, netto, lindo, sono proprio tre note. E la parola accordo deriva proprio, e questa cosa ci piaceva notarla, proprio da accordare, da conciliare, cioè nel senso di creare un suono armonioso. Allora, nel gioco di conoscenza che abbiamo fatto all'inizio, effettivamente questa ricerca dell'armonia già era presente. Qui apro una piccola parentesi. È un laboratorio fatto principalmente con colleghi del mondo, chiamiamolo, occidentale. Era presente con noi un collega cinese che effettivamente ci ha fatto notare una cosa interessante, nel senso che lui trovava anche le distanze due, quindi le distanze, per capirci, dal do al re, con due passaggi, piacevoli. Ma questo anche nella musica araba, per esempio, ci sono i cosiddetti semitoni e mezzitoni che aiutano ad avere quel suono particolare, arabeggiante, come si dice di solito. Quindi anche qui sarebbe stato da aprire una discussione su quello che è piacevole per qualcuno e quello che non è piacevole per altri. Diciamo che in media l'orecchio umano percepisce queste distanze come quelle più piacevoli. A cosa corrispondono questi triangoli che abbiamo costruito? Questi triangoli che abbiamo costruito corrispondono esattamente agli accordi. Il triangolo scaleno 1, il 435 che vedete all'interno del cerchio cromatico, rappresenta quello che viene chiamato in generale l'accordo maggiore. Quello che vedete rappresentato lì è l'accordo di do maggiore, dove do è la nota fondamentale, e il mi e il sol sono le altre due note che formano praticamente insieme, se suonate contemporaneamente, l'accordo maggiore di do. Il secondo triangolo scaleno invece rappresenta quello che chiamiamo un accordo minore, il triangolo isoscele diventa l'accordo diminuito e il triangolo equilatero diventa l'accordo aumentato. Questo è, come vi dicevo prima, una prima verità, una prima cosa fondamentale nella armonia musicale, nella costruzione degli accordi, perché spesso, e questo ci siamo accorti anche concretamente perché Marco, come vi dicevo prima, Fermani è anche insegnante di musica, che nelle scuole di musica spesso si tende a insegnare l'accordo a chi è studente come una sequenza di distanze. In realtà qui il di più che abbiamo scoperto è che lo riusciamo a visualizzare in maniera immediata. Cioè noi su questo cerchio cromatico visualizziamo in maniera immediata la forma dell'accordo. I colori aiutano a ricordarci qual è l'accordo maggiore, qual è l'accordo minore e così via. Queste quattro proprietà dell'accordo sono le quattro proprietà che l'accordo ha in generale anche musicalmente parlando. Poi abbiamo fatto un passo ulteriore. Perché? Perché abbiamo provato a chiedere a chi era presente con noi di ascoltare come suonavano questi accordi. Adesso io qui non ho a disposizione un piano, lo farò utilizzando l'ukulele e vorrei che ciascuno di voi provasse a immaginare che sensazione prova, ok, quando ascolta un accordo maggiore, minore, diminuito, aumentato. E sensazione nel senso di sentimento, di feeling, quello che in inglese si dice feeling. Cioè quale sensazione il nostro cervello collega a questo tipo di accordo? Allora questo è un accordo maggiore. Ecco vi do un attimo di tempo come nei migliori quiz, non sto scherzando, quello che ci accorgiamo è che l'accordo maggiore evoca una sensazione di gioia. Non a caso tantissime canzoni gioiose, le più semplici anche in assoluto, sono tutte con accordi maggiori. Tanti auguri a te, fra Martino Campanaro, che ne so, ce ne possiamo mettere quante ne vogliamo, jingle bell, stiamo andando verso il Natale. Poi c'è l'accordo minore. L'accordo minore suona invece così. Ok, ho dato un piccolo indizio con il volto, se mi vedete. L'accordo minore invece evoca una sensazione di tristezza. L'accordo minore, invece, è un accordo particolare perché, sentite come suona. Potrebbe essere adatto alla storia di prima del professor Toffalori. Infatti l'accordo minore ha come effetto quello di una sensazione di paura, di incertezza, di sospensione. Mentre l'accordo aumentato, che suona così, ci lega invece ad un ambiente che è più magico, che è più immaginifico. Allora, questo approcciare la teoria musicale dell'accordo, non solo con un approccio visivo, ma anche con un approccio uditivo che si lega un po' all'emozione che uno prova, fa capire anche meglio perché alcuni brani possono suscitare in noi sentimenti diversi, no? Di gioia, di tristezza, di tensione. Anche nelle colonne sonore, ad esempio, dei film, no? L'utilizzo nei film dell'orrore, per esempio, di accordi diminuiti che creano suspense è molto utilizzato, così come l'accordo aumentato viene molto utilizzato in situazioni dove c'è di mezzo un contesto invece più magico e più favoloso, diciamo, legato al contesto dei cartoni animati o dei mondi paralleli. Vado veloce. A questo punto, una volta sperimentata questa parte musicale emotiva, se possiamo chiamarla così, si ritorna alla matematica con l'approccio cosa accade se? Perché a questo punto, una volta che abbiamo collegato che ad ogni figura geometrica, in questo caso triangoli, corrisponde un determinato tipo di accordo, che partendo da una nota fondamentale può descrivere l'accordo di do, l'accordo di re, e tutti quelli legati alle note della scala musicale, incominciamo a porci delle domande matematiche, tra virgolette, che poi sono anche domande musicali. E quindi la prima domanda è che cosa accade se quel triangolo che abbiamo visto prima, posizionato con nota fondamentale do, viene ruotato all'interno della circonferenza. Ecco, sembrerà incredibile, ma questa rotazione praticamente cambia il nome dell'accordo, ma non cambia la natura dell'accordo. Cioè un accordo maggiore, ruotandolo all'interno della circonferenza, rimane un accordo maggiore. Quindi in qualche modo, se io provassi a passare tutte le note presenti nel cerchio cromatico, avrei in un attimo la costruzione immediata dell'accordo maggiore per ogni nota. Quindi l'accordo maggiore di do, di do diesis, di re e così via. Altra domanda dopo questa, che cosa succede invece se cominciamo a effettuare delle simmetrie? Ecco, ad esempio, se simmetrizziamo il triangolo rispetto al diametro del cerchio cromatico che passa per la nota fondamentale, come vedete nella figura passa per la nota do, quello che otteniamo praticamente è esattamente un cambio di natura dell'accordo, cioè quello che prima era un accordo maggiore diventa un accordo minore, diventa quello che si chiama il relativo accordo minore dell'accordo precedente. In questo caso, vedete quello che accade che al do maggiore corrisponde in realtà un accordo che è un maggiore rovesciato o anche un minore. Oppure cosa succede se simmetrizzo rispetto al diametro passante per uno degli altri vertici? Stessa cosa. Che cosa succede invece se simmetrizzo rispetto a un asse passante per il punto medio di uno dei lati del triangolo? E questa è l'altra situazione che si crea. Non vado nel dettaglio per non annoiarvi però ognuno di questi di queste simmetrie e genera a livello matematico delle figure che sono simmetriche appunto con quelle caratteristiche che penso tutti conosciamo ma a livello musicale genera praticamente un approccio alla teoria musicale che è completamente visivo. Cioè io riesco a cogliere delle particolarità che altrimenti sarebbero più complicate da imparare perché dovrei lavorare molto sullo strumento. Questo invece mi permette di visualizzare subito quello che accade e di riportarlo in maniera immediata sullo strumento che ho davanti in particolare un pianoforte. Quindi quello che abbiamo chiesto poi ai presenti e al workshop ai colleghi presenti era di esplorare come cambiava il suono e identificare quali differenze sia geometriche che musicali si verificavano. Ovviamente nel luogo dove abbiamo svolto il workshop era presente un pianoforte o c'erano due pianoforti un pianoforte e una pianola c'era una chitarra così che ognuno poteva in tempo reale sperimentare visivamente cosa succedeva con la simmetria e suonare allo stesso tempo quella che era la figura visualizzata nel cerchio cromatico. Che cosa è successo? Che siamo passati da questo alla quarta parte. Cioè abbiamo provato ad associare a delle canzoni. Adesso qui ve ne faccio vedere alcuni esempi. Quello che era uno schema visivo sia in termini di canzone suonata con i boom walkers vedete a sinistra c'è quella tabella tutta colorata dove quei colori che vedete sono i colori rappresentanti ogni singolo boom walkers partendo dal to che è rosso fino ad arrivare al sì che è rosa e vedete che c'è una sequenza sulla sinistra sequenza gialla arancione verde e così via che in orizzontale può essere letta come un accordo e quindi nelle due colonne finali quello che vedete è praticamente la scrittura di quello che è l'accordo composto dalle tre note che vedete nelle colonne colorate. Questa per esempio è il giro cosiddetto di accordi di stand by me che sicuramente conoscete meglio di me e questa è la visualizzazione poi nel cerchio cromatico con i triangoli della cosiddetta l'abbiamo chiamata la geometria di stand by me. È interessante perché si può giocare con questa anche situazione e giocando si impara anche a capire quali accordi possono andare insieme e quali no perché si vede che ci sono accordi piacevoli e si impara anche a capire quali sono le cosiddette traiettorie armoniche che utilizza un compositore musicale quando deve giustapporre non solo una melodia ma anche degli accordi che sostengono la melodia. Qui vediamo per esempio la geometria di Michelle dei Beatles e qui la geometria di nel blu di Pinto di Blu nostro cavallo di battaglia del nostro Domenico Modugno. Ovviamente abbiamo scelto per il workshop tre canzoni che erano molto conosciute. Quello che poi abbiamo utilizzato come chiusura del workshop è quello di provare adesso con queste semplici nozioni a diventare per un attimo dei compositori. Cioè abbiamo creato quella che possiamo definire una composizione random. Come funziona? È un gioco ovviamente. È un gioco che però vi fa capire come anche, e qui entro un po' nel momento didattico, se pensate a persone che possano partecipare a questo laboratorio che è un laboratorio tra l'altro trasversale nel senso che può essere fatto sia con bambini di scuola primaria che con studenti universitari che con un pubblico generico che può essere presente o partecipe a un festival ci permette in qualche modo di dare un approccio musicale immediato a quello che può essere la capacità compositiva di una persona. Ovviamente nessuno è musicista nel momento in cui si siede ma quello che succede è che alla fine del laboratorio ognuno va via dal laboratorio con una propria melodia, con una propria musica che poi noi registravamo su un file del computer, la suonavamo, Marco la suonava e ognuno si portava via questa questa melodia che poteva essere o la suoneria per il cellulare o qualcos'altro. Come funzionava questo gioco di composizione casuale? Funzionava così, si sceglieva una nota di partenza, supponiamo che sia il Do e poi si sceglieva uno dei quattro triangoli o accordi, va bene, per comporre la canzone. Chi voleva poteva anche sceglierne due, noi in questo caso per semplificare la cosa ne scegliamo uno, supponiamo di scegliere l'accordo maggiore. Poi che cosa si fa? Si gioca con quello che sono delle caratteristiche della persona, quindi si prende il nome della persona, si conta di quante lettere ha composto il nome della persona e si avanza in senso orario sul cerchio cromatico di tante posizioni quanto il numero delle lettere che compone il nome. In questo caso vedete che dal Do si va esattamente a finire alfa diesis. Dopodiché, secondo passaggio, si prendeva il cognome, anche qui quante lettere compongono il cognome, si continua a girare in senso orario, anche se qui vedete che sono tre passi all'indietro, ma corrispondono esattamente a nove passi in senso orario e si arriva al re diesis. Dopodiché, la nazione di provenienza, essendo un laboratorio internazionale, quindi ognuno utilizzando il numero di lettere che compongono e il nome della loro nazione, aveva l'ulteriore step per progredire sul cerchio. Fatto questo, questi erano i quattro accordi, le quattro note fondamentali da cui costruire gli accordi maggiori. Fatto questo, ognuno sceglieva la propria stagione preferita. Non mi chiedete perché, è stata una scelta fatta lì sul momento, ma era semplicemente un modo per dare un tempo a questi accordi. Quindi ognuno, a seconda della stagione, aveva una ritmica su quattro quarti che veniva dettata dal cambio di accordo. Quindi se la stagione preferita era il tre, significava che ogni tre battute veniva suonato lo stesso accordo e poi veniva cambiato. Ovviamente questo ci permetteva di comporre una musica, chiamiamola così, non proprio perfettamente piacevole, e questo era un altro tema su cui poi abbiamo discusso, il fatto che comunque non è che basta solo una composizione random per creare una canzone, ma serve qualcosa di più, però permetteva comunque alle persone di sperimentare, ok, con questa idea del triangolo, dell'accordo con lo strumento, in una situazione molto confidenziale e confortevole, dove ognuno poteva sentirsi libero anche di esprimere e di commettere degli errori senza problemi, dava la sensazione di avere proprio a disposizione una capacità compositiva che nessuno magari avrebbe ipotizzato all'inizio del laboratorio. Come è andata avanti questa prima esperienza del vedere la musica? Qui ci sono alcune foto che ritraggono alcune attività, alcuni fogli scritti, una spiaggia, insomma, perché, come vi dicevo, poi il Covid ha interrotto tutto, ma prima del Covid questi laboratori li abbiamo provati a portare anche in giro per l'Italia e per l'Europa. Quelle foto che vedete a sinistra sono relative al convegno Bridges dell'anno successivo a Stoccolma, dove abbiamo in qualche modo replicato la stessa attività, però stavolta, vedete, a grandezza naturale, dove le persone potevano ragionare ancora di più sulla costruzione degli accordi, ma in particolare avevamo previsto anche un'attività, come vedete, hands-on per i bambini, dove attraverso quei cerchietti di cartone ognuno con un filo di lana poteva costruirsi alla fine la sua canzone. Sopra nel cerchio di cartone, dove vedete quei fili colorati, ecco, ogni filo colorato rappresenta una sequenza di note e quella che vedete realizzata lì è proprio Fra Martino Campanaro, che è la canzone ovviamente universalmente conosciuta, che utilizzavamo all'inizio con loro per poter presentare l'attività. Ovviamente abbiamo portato l'attività anche all'aperto, vedete i boomwalkers anche in riva al mare, in spiaggia, in un'attività molto più giocosa, ma che si utilizzava il contesto dove era fatta, quindi si utilizzava la sabbia come una grande lavagna dove poter andare a scrivere e a fare le stesse cose che abbiamo fatto lì nel pavimento o sulla tavoletta grafica. Sotto invece vedete le nostre ultime riflessioni fatte con Marco, dove ci sono, stiamo andando avanti nella ricerca, perché questo approccio di teoria musicale l'abbiamo anche presentato ad altri colleghi musicisti che hanno molto apprezzato questa idea di mettere insieme l'aspetto visivo e l'aspetto musicale e quindi, come vedete, stiamo ragionando su quelli che sono gli accordi di terza, gli accordi di quarta, di quinta, di settima e così via, ma anche su quello che è l'approccio dodecafonico, come vedete in quel cerchietto di cartone con lo sfondo celeste. Quello di destra invece addirittura è un progetto abbastanza folle che stiamo provando a portare avanti, che è quello proprio di un pianoforte, un pavimento, chiamiamolo così, neanche un pianoforte, un pavimento sonante, dove le persone passando sopra potrebbero in qualche modo, toccando determinati punti di quei triangoli, creare una sorta di melodia se vogliono, saltando di vertice in vertice, oppure creare una canzone, una musica, camminando invece sulle piastrelle che sono i triangoli. Ok, passo rapidamente alla seconda parte, vi lascio a questo video. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, come vi dicevo, passiamo alla parte invece di ascoltare la matematica. Non è scollegata da quella precedente, ma è un altro percorso che è nato più o meno nello stesso periodo. Quello che avete visto è il trailer di un brano che si intitola From Order to Chaos, che è stato strutturato, pensato, composto e costruito partendo dalla mappa logistica. Poi adesso ve lo presenterò successivamente, ma quello che vorrei precisare, che forse prima l'ho detto ma non ho puntualizzato questa cosa, ognuno di questi lavori parte dal presupposto non di mettere la matematica al servizio della musica o la musica al servizio della matematica, ma parte da un altro presupposto che è quello di far sedere matematica e musica allo stesso tavolo e farle interagire come se fossero due presenze alla pari. Questo genera delle difficoltà sicuramente più grandi, ma vi assicuro che abbiamo sperimentato e toccato con mano che crea anche delle situazioni creative che vanno al di fuori di quello che è il percorso strettamente disciplinare dell'una e dell'altra materia. In particolare questa, diciamo, piccolo trailer che avete sentito è un brano tratto da una canzone più lunga, che dura 7 minuti e 16, che è proprio la Logistic Map Song, che adesso vi farò vedere anche come l'abbiamo generata, e che si trova all'interno di un progetto ancora più ampio, come avete visto alla fine, che è il progetto FOTCAB, ovvero From Order to Chaos and Deck, che è uno spettacolo che stiamo costruendo, che parlerà della teoria del caos, della teoria della complessità, in particolare utilizzando quello che è il linguaggio principalmente della musica, della danza e della design art. Detto questo, qual è la domanda anche qui da cui siamo partiti, come all'inizio? Vedete che la domanda è proprio questa. Io ragionavo sul fatto che utilizziamo i grafici per visualizzare il comportamento di equazioni di differenze finito, di equazioni differenziali o di curve in generale, noi siamo capaci quindi di vedere il comportamento di queste curve e a un certo punto mi sono chiesto come la scimmia, perché mi reputo molto più vicino a quella scimmia che pensa piuttosto che a un luminare, perché non possiamo sentirle anche, ecco, queste queste equazioni. E allora l'idea è che in qualche modo ci siamo domandati con Marco quale potesse essere una equazione semplice che avesse però delle caratteristiche interessanti da poter musicare. E dopo un po' di ricerca ci siamo focalizzati su quella che è la mappa logistica, che la vedete scritta lì sopra nella sua equazione matematica, è una equazione di secondo grado, né più né meno. Ci tengo a precisare, mi sono accorto adesso che ho lasciato il k nell'equazione mentre nel video che avete visto il k che compare nell'equazione era indicato con r ma semplicemente per una questione di grafica del video. Però ecco, la mappa logistica è in qualche modo l'esempio più semplice di come appunto un comportamento caotico può sorgere da una semplice equazione dinamica non lineare. Perché abbiamo utilizzato questo? Sia perché è una diciamo equazione che è trasversale, perché in qualche modo la mappa logistica descrive quello che è l'evoluzione di una nicchia ecologica, di una popolazione eccetera eccetera, sia perché ci sembrava interessante il fatto di partire con un'equazione banale. Cioè un'equazione come questa, se togliamo l'n più 1 e l'n, ci mettiamo y al primo membro dell'equazione, non è nient'altro che, non rappresenta nient'altro che è un fascio di parabole, insomma con cavità rivolta verso il basso per k positivo e così via. Quindi partire da una cosa che tutti conoscono per poter sperimentare quello che accade, cioè provare ad ascoltare quelle che sono le proprietà e le caratteristiche di questa equazione. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato gli output della mappa logistica per determinati valori di k per generare la musica. La forma di tutto il brano però abbiamo scelto di sottoporla sempre a quelli che erano i nostri obiettivi artistici. Molti compositori si sono cimentati con il caos, mi viene in mente Ligheti ad esempio o Xenadis, ma sono brani che a un certo punto dopo 30 secondi diventano difficili da digerire perché è proprio caos reso musicale. Il nostro obiettivo era un altro, cioè far suonare il caos ma cercando di renderlo godibile per l'ascoltatore. Questa era la terza regola che ci siamo dati. Come abbiamo fatto? La prima cosa che abbiamo fatto abbiamo detto dobbiamo scegliere una scala musicale che sia piacevole per l'uomo. Vi ricordate il discorso di prima quando dicevamo no? Il bicorde, quali erano piacevoli? Ecco qui abbiamo giocato invece sulla scala particolare. Come siamo arrivati a scegliere la scala pentatonica di La minore? Perché ci siamo imbattuti qualche anno fa in questo video di Bobby McFerney che mi piace farvi vedere, non so se ho ancora del tempo, penso pochi minuti, cerco di andare velocissimo alla conclusione, però questo vale la pena vederlo. Eccolo qua. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stanno portando all'evidenza di tutti che la scala pentatonica è la scala che l'orecchio umano riconosce in maniera del tutto automatica. Avete visto che il pubblico cantava quasi all'unisono con Bobby McFerney semplicemente guardandolo spostarsi su dei punti senza un minimo di previsione e la mente e il cervello seguiva esattamente quella scala. E quindi proprio per la sua universalità e per l'atmosfera musicale che crea abbiamo scelto la scala pentatonica. In particolare abbiamo scelto quella di La minore perché è la scala pentatonica più usata nell'ambito del blues. Quindi è anche quella che ha le radici più lontane diciamo per quelli che sono i chitarristi blues e nella storia in particolare della musica. Poi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo costruiti grazie a Diego Zallocco che è un nostro amico un software che abbiamo chiamato Chaos Music, un programma di suonificazione che in qualche modo ci trasformava delle sequenze di numeri che venivano sfornate dall'equazione logistica in una sequenza di note. Qui vedete uno screenshot e i valori, questo non l'avevo detto, l'ho precisato adesso, i valori assegnati al seme quindi alla x0 di partenza che poi creava la successione, la cosiddetta orbita dell'equazione logistica era un valore compreso nell'intervallo 0-1. Quindi tutte, diciamo, le immagini, i risultati che ottenevamo in uscita erano valori compresi da 0-1. Questo ci ha servito perché? Perché abbiamo preso l'intervallo 0-1 lo abbiamo diviso in 11 parti uguali e ogni singolo intervallo lo abbiamo associato a ciascuna delle 11 note della doppia pentatonica. Nel senso che non abbiamo preso tutte e 12 le note perché avevamo fatto un tentativo con la scala completa ma suonava male. Abbiamo scelto, vedete, queste 6 note, 5 note della scala pentatonica più in là di chiusura e quindi 5 più 5 è 11 più l'ultima a chiudere che era 12. Eccolo qua, qui lo vedete meglio nel piano e questo perché da un lato dà al brano un sentimento triste, misterioso, dall'altro abbiamo scelto come nota centrale quella della centrale della tastiera del pianoforte e soprattutto è una scelta, questa della pentatonica minore che guida, tra virgolette, la musica verso quello che piace al compositore. Quindi noi abbiamo dato una sensazione iniziale alla musica. Abbiamo anche utilizzato sequenze di note quasi sempre crescenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato anche qui siamo andati sul semplice. Abbiamo preso una fisarmonica e un contrabbasso per la musica. Tutto quello che era il discorso di percussione che avete sentito è fatto con la voce, quindi attraverso un beatbox mentre abbiamo utilizzato un synth per far suonare il computer. Nella parte finale, dove c'erano quelle immagini un po' confuse, il suono che si sentiva, che era quel suono un po' particolare, era il suono di un sintetizzatore ma era la sequenza caotica generata dal computer che veniva suonata in tempo reale dal sintetizzatore. Questo è come abbiamo poi creato la generazione delle key sequence e quindi vedete abbiamo diviso quello che è il diagramma delle forcazioni che rappresenta l'evoluzione della mappa logistica al variare del parametro K o R che è rappresentato sull'asse delle X, sull'asse delle scisse mentre nell'asse delle ordinate avete l'intervallo 0-1 dove potete immaginare che il punto generato dalla sequenza oscilla e va a occupare dei posti imprecisi e come vedete i risultati principali sono tre. Una prima parte che è quella cosiddetta sezione del punto fisso dove in qualche modo tutte le sequenze poi vanno a finire in un'unica nota, la parte cosiddetta periodica con i cicli pari e poi la parte caotica finale. Questo qui vado un po' più veloce, è come sono state create poi lascerò disponibili le diapositive tra l'altro darò anche alla fine un riferimento bibliografico dove andare a scaricare proprio l'articolo e è come sono state costruite le varie sequenze rispettando delle regole che ci siamo dati. Vado a chiudere, questa è la sezione ciclica e questa è la sezione caotica dove all'interno abbiamo fatto comparire dei cicli periodici dispari che ogni tanto compaiono nella canzone completa ogni 12 battute. Tra l'altro, premetto, la canzone completa è scaricabile e udibile gratuitamente dal sito Bridges al link che poi vi farò vedere alla fine, quindi potete anche andare a scaricarla e sentirla se avete voglia e piacere. Sono sette minuti e sedici, lunghi, ma il risultato è apprezzabile e quello che vorrei dire in conclusione è questo. In entrambe queste situazioni l'approccio che abbiamo avuto non è stato un approccio banale, cioè o meglio, è stato un approccio semplice, ma il compito che abbiamo dovuto svolgere e portare a termine non è stato banale. Nel caso della sonificazione della mappa logistica, trovare una serie di note appropriata non è stato difficile. Ecco, quell'aiuto di Bobby McFernand è stato veramente lampante in quel momento, ma non è stato scontato, perché poi abbiamo dovuto fare diversi tentativi per capire cosa suonava meglio e cosa peggio. Quello che però ci sembrava importante era, uno, la gestione del livello di errore che c'era all'interno, ma l'abbiamo gestito artisticamente, non matematicamente, così come invece quegli errori matematici che potevano sorgere dal valutare una funzione piuttosto che l'altra in maniera sbagliata, venivano corretti con attenzione per fare in modo che diventassero dei punti efficaci di forza di tutto l'approccio e di tutti i laboratori. Ovviamente ci sembra anche questo un modo diverso per poter presentare delle applicazioni pratiche e creative, in questo caso di sistemi dinamici non lineari, ma anche in generale di presentare la matematica al pubblico. Anche perché, come dice Truax nel suo studio sui sistemi non lineari caotici, dice la musicalità che può essere associata a questo tipo di equazioni risiede nella conoscenza del musicista e di chi mappa, quindi del matematico, piuttosto che nella sorgente che genera la funzione. Quindi non è la mappa logistica in questo caso che ha generato, ma è stata semplicemente una scusa per dare la possibilità al matematico e al musicista di gestire un approccio musicale che potesse diventare significativo poi per chi lo ascoltava. Questi sono i riferimenti finali e vorrei dirvi che tutto questo percorso è stato messo all'interno di un libro che uscirà a fine ottobre, in uscita a fine ottobre con Stefano Temanini Editore, scritto dal sottoscritto, si intitolerà Steam People, dove Steam è proprio l'acronimo per Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics ed è proprio, racconta come questo approccio tra scienza e arte può diventare in qualche modo, oltre che un modo per comunicare la matematica a tutti, anche una nuova visione formativa e didattica da utilizzare nella scuola. Grazie.